Ciao, incredibile ma vero, mi vedete in uno spazio, oddio, casca la telecamera, scusate tutto storto, ok, mi vedete in uno spazio un po' diverso da quello del solito perché sono in giardino, scusate il sole in faccia però d'altra parte non saprei altrimenti come mettermi, se mi vedete all'improvviso smetto di parlare perché ci sono dei vicini perché sono italiani e mi fa un certo che il fatto di parlare, di sapere che mi sentono e che magari poi vedono, scoprono, quindi vabbè insomma come vedete dal sole sto cercando magari mettermi un po' più in ombra però meglio, insomma insomma era meglio se cercavo un altro orario però vabbè sono libera quindi come vedete finalmente il sole è arrivato anche qui e da qualche giorno tocchiamo legno, tocco questa sedia su cui sono seduta che fanno veramente delle belle giornate, sono abbastanza stupita perché non mi sarei mai aspettata siamo aprile, speriamo che duri e quindi niente, io avevo una settimana di ferie sarei dovuta andare in Italia però in realtà vengo in Italia a maggio perché avevo proprio bisogno di riposarmi, infatti avrete notato, sono completamente sparita però nell'ultimo mese, mese e mezzo ho lavorato davvero tanto perché mentre prima lavoravo tipo 4 giorni a settimana, ora lavoro 5 giorni a settimana però quando sono libera ho tante cose da fare quindi non ce l'ho fatta proprio a fare video né niente, mi rendo conto e sto parlando un po' pianino, non è propriamente da me ma solo perché sono un po' paranoica per questa cosa se non mi sento, comunque mi guardo intorno con aria sospetta, sospetta, sospettosa e sta bene e la prossima settimana qui come probabilmente avete sentito ci sarà il matrimonio reale del principe William che si va a sposare la Kate, qui è un grande evento, tra l'altro qui è un giorno di vacanza si chiama Bank Holiday, è uno dei giorni in cui nonostante sia mezzo alla settimana non si lavora e questo Royal Wedding sarà se non mi sbaglio venerdì prossimo, cioè il 29 di aprile si fa un gran parlare di questa cosa, io lavorerò comunque perché dove lavoro io siamo aperte anche per il Bank Holiday quindi vabbè, però insomma sicuramente massimo alle 6 finisco, meno male, perché chiude tutto e che dire di questo matrimonio, qui tante persone sono da una parte giustamente anche arrabbiate nel senso che per il matrimonio reale verranno spesi tantissimi soldi ma questi soldi non escono dalle tasche della regina e famiglia, ma escono dalle tasche nostre nel senso che con le tasse che paghiamo si va a pagare anche appunto al matrimonio, al letto, quanti invitati ci saranno, a tutto quanto e in più si prevedono dei tagli qui in Inghilterra, quindi per esempio dall'anno prossimo l'università costerà molto di più mi sembra costerà tipo 9000 sterline all'anno, almeno in alcune università, 9000 sterline all'anno sono tantissime se tenete conto che comunque ci sono poi delle vacanze e tutto quanto, sono quasi 1000 sterline al mese, vabbè un po' meno però questo è soltanto di tasse, perché poi ci dovete mettere l'alloggio e tutto quanto c'è di buono che qui in Inghilterra, non so se lo sapete, ma il governo dà un prestito agli studenti quindi se te sei studente e vuoi iniziare all'università, non è come in Italia che o ti mantiene la famiglia oppure a meno che tu lavori, ma se lavori per poterti mantenere all'università completamente sicuramente non ce la farai a studiare negli anni previsti quindi qui in Inghilterra fa conto, fra tasse e tutto quanto ti servono, che ne so, 40.000 sterline lo dico grosse, però per fare l'università lo Stato ti dà queste 40.000 sterline quindi investe comunque nel futuro dei giovani inglesi perché poi giustamente si presume che con una laurea potranno avere migliori possibilità per il futuro potranno dare qualcosa in cambio, potranno dare, che so, se qualcuno si iscrive a medicina poi sarà possibilmente, insomma si spera si spera che sarà un buon medico e quindi la nazione si ritroverà con un buon dottore oppure se studi per diventare insegnante dai qualcosa in cambio allo Stato perché appunto si presume, si spera che tu sia poi una buona maestra, un buon maestro quindi insomma lo Stato dà questi soldi, però è un prestito e poi una volta che quello che era uno studente diventa lavoratore e ha il suo lavoro può ricominciare, può cominciare a dare indietro i soldi allo Stato quindi insomma questa è una cosa positiva però insomma un conto è dover ridare indietro, che ne so, 20.000 sterline di tasse cioè di tasse, in totale un conto è dover ridare indietro 40.000 sterline o 50.000 perché le tasse sono così aumentate io qui quando comincio a parlare di qualcosa poi vado all'infinito a parte questo discorso di tagli all'università parlano addirittura di togliere la sanità pubblica quindi di istituire un tipo di sanità privata come è in America e quindi molte persone, specialmente quelli che sono contro l'esistenza di una monarchia quindi Inghilterra, anche se insomma una monarchia così all'acqua di rose sono molto, diciamo, verdi per via di questo matrimonio io da una parte sono, cioè da una parte, da quel punto di vista sono completamente d'accordo perché con i soldi che mi vengono spesi potrebbero essere, appunto, evitati tagli alla scuola o tagli alla sanità o altri tagli, insomma, che sono stati attuati o che saranno in atto presto dall'altra parte subisco un po' il fascino, no? del fatto di vivere in un paese dove esiste una monarchia ora, io non sono monarchica però mi affascina un po', si vede perché ho delle come si dice, delle reminiscenze di quando ero piccina che volevo essere una principessa ma la regina era molto affascinata da queste storie tipo Cenerentola, che poi il principe se la sposa non che volessi essere una principessa però, insomma, sotto sotto, no? tutte le bimbe vogliono essere un po' principesse e quindi il fatto di vivere in un luogo dove effettivamente esiste una regina esiste esisterà una principessa esiste il principe anche se, insomma, è il principe William ve lo dico mi ricordo dieci anni fa era tanto bellino ora sembra il suo babbo praticamente anzi, sembra il babbo del suo babbo il suo babbo sembra anche più male di lui però quindi da una parte subisco anche il fascino della cosa penso che io per il matrimonio reale lavorerò e quindi mi porterò alla diretta televisiva però forse poi mi vedrò degli spezzoni tipo su YouTube o sulla BBC sicuramente faranno faranno vedere qualcosa quindi vabbè poi che dico non so troppo quant'è da c'è il sole io spero che duri perché qui non si sa mai nel senso e non cioè se mi sentite che parlo un po' così non è perché sono morta sono depressa semplicemente perché appunto mi frena un po' questo fatto di sapere che ci sono persone che accanto che teoricamente potrebbero spiare e mi fa un che perché un conto se stai a giro un filmato con una telecamera poi lo mandi su YouTube e cioè e chi lo vede presumibilmente non sono te vicini di casa un conto a me se sapere qualcuno mi conosce magari mi sente che parlo ci sono due gatti che vivono più vicino proprio nella casa accanto praticamente da quella parte e uno cioè sono tutti bianchi e neri però uno è più nero uno è più bianco mi piacciono tantissimo cerco sempre di rapirli di di farli entrare in casa con le scuse più terribili però ho avuto questa bruttissima notizia che i vicini di casa traslocheranno nel senso che la casa era venduta di conseguenza è la prima volta che sono da questi dei vicini se ne vanno e quindi cioè anche i gatti andranno via a costa mi deprime un po' e poi che vi dico abbiamo piantato le fragole e i pomodori speriamo che che vengano sempre a proposito di gatto attrarre il gatto ieri ho comprato dei gamberi del sushi non so se è stata una cosa intelligente dato tutta la catastrofe che c'è stata in Giappone però vabbè insomma spero che non mi vediate nel prossimo video con strane modificazioni genetiche però insomma credo di no tra l'altro non so se questa è pubblicità oppure no ma direi di no non so se credo di averla accennato perché io lavoro per l'ASH e l'ASH ha fatto una cosa molto molto bella secondo me proprio nelle ultime due settimane non so se c'è anche in Italia questa cosa oppure no però l'ASH ha molti negozi anche in Giappone e abbiamo anche tanti colleghi in Giappone e molti di questi colleghi hanno perso la famiglia hanno perso la loro casa quindi non so se sapete che l'ASH ha una compagnia che comunque lavorano con qui si chiamano con le charities in Italia penso si chiamano charity lo stesso cioè sono queste associazioni di volontariato comunque che si occupano di aiutare persone animali ambiente però in seguito a quello che è successo in Giappone l'ASH ha fatto una saponetta ha inventato una saponetta che è fatta proprio a forma di bandiera giapponese quindi è bianca fatta tipo bandiera con questo tondino rosso nel mezzo e profuma di cocco c'era un sapone al cocco che faceva l'ASH fino all'anno scorso che poi è stato cioè hanno smesso di farlo purtroppo perché aveva un buon odore la saponetta ha lo stesso odore e qui in Inghilterra è una saponetta da 100 grammi costa 5 sterline quindi è abbastanza però di queste 5 sterline tutto è ricavato oddio la ecco sta cadendo tutto è ricavato tranne le tasse che ora anche qui in Inghilterra sono il 20% vanno a una charity che si chiama Peace Boat e che aiuta appunto le persone in Giappone cioè gli abitanti del Giappone dopo quello che è successo oddio c'è una vicina che spia la cosa del concerto che probabilmente pensa che sia pazza e aspettate ecco ecco non è più lettino mi vedeva che parlavo probabilmente pensa che sia matta quindi vabbè insomma di queste 5 sterline che spendete ora comincio a parlare sempre più piano di queste 5 sterline praticamente 4 sterline vanno a questa charity e quindi vanno alle persone in Giappone mi sembra una mona forza scusate mi fa un certo che anche in realtà sia vergognosa e poi questa vicina qui non parlare in meno italiano quindi è una di quelle si trasferiscono vedete guardo vabbè insomma non so se qui in Inghilterra si chiama Japanese AIDS non so se la faranno anche in Italia se la distribuiscono anche in Italia però se c'è magari e avete un lascio vicino se vi va di comprarla perché comunque è fatta un'opera insomma è un'opera buona fra l'altro leggo spesso tipo sul forum al femminile di persone che usano cioè magari comprando i prodotti lascio con alcuni non si trovano bene oppure non sanno come usarli io nel senso ci lavoro ho scelto di lavorare lì perché comunque la compagnia mi piace mi piace l'etica mi piace il fatto che i prodotti non sono testati sugli animali e comunque insomma ero già una consumatrice di prodotti lascio però ovviamente ci sono cose con cui mi trovo meglio cose con cui mi trovo peggio come con tutte le marche però insomma nel limite del possibile se c'è qualche dubbio che avete se alcuni prodotti volete alcuni consigli chiedetemelo che mi fa piacere farvi sapere io mi piace la parte del mio lavoro che che prevede la consulenza a quel cliente è quella che alla fine mi piace di più perché parlo di cose che parlo di cose che amo e di prodotti che mi piacciono e quindi insomma mi fa piacere quindi se avete dei dubbi chiedetemi che vi rispondo volentieri ora vado perché mi sei un po' straspiata magari vi faccio un video dopo un bacio ciao